Innanzitutto ringraziamo Provincia Autonoma di Trento perché 460 posti letto con questa qualità, con questa fattura, finiture, non solo restituiscono posti ma li restituiscono con un livello, una qualità forse superiore a quello che ci si poteva aspettare prima. È un po' uno dei paradigmi su cui lavoriamo, non vogliamo solo ricostruire, vogliamo creare delle condizioni che permettano di stare ancora meglio di come si stava. L'Università di Camerino è una priorità dentro la ricostruzione, non è tutto uguale, tutti hanno la loro importanza, hanno una scala di valori, è evidente che questa presenza è estremamente importante perché riguarda certamente il servizio che offre direttamente ma anche l'intero territorio che per mille necessità si rivolge all'Università, all'impresa nel momento in cui vogliono fare innovazione, gli enti locali quando hanno bisogno di un supporto scientifico per le attività che devono svolgere, la stessa regione utilizza i servizi dell'Università di Camerino e vincere la sfida dell'Università è vincere una delle partite più importanti all'interno della ricostruzione, lo vogliamo affrontare a 360 gradi perché l'Università è fatta di tanti elementi che devono tenersi insieme, siamo convinti che fare questo lavoro, sostenere l'Università significa restituire tantissimo un territorio e dare quei segni tangibili e concreti che gli cittadini si aspettano per poter guardare avanti con fiducia. Lo studentato secondo noi è meraviglioso come costruzione, è meraviglioso nella posizione e darà ai nostri studenti veramente delle... Secondo me è una grande voglia di studiare perché ci troviamo in un ambiente ideale per lo studio, gli ambienti sono salubri, gli ambienti sono sicuri, darà sicurezza agli studenti e alle famiglie con ogni probabilità e quindi ci teniamo moltissimo, parliamo di quasi 460 posti letto, si potrà vivere veramente l'ambiente universitario, un vero e proprio campus che si integrerà perfettamente con la parte della città che è qua sopra e si integrerà con il campus attuale dove è già inserito il rettorato, la scuola di giurisprudenza e altre residenze studentesche.